Io ho ritrovato in questa storia, insomma, intanto due elementi fondamentali. Il primo, che è stato già approfondito da Rocco, c'è questo sullo sfruttamento e sulla disparità e in qualche modo la lotta di classe. Poi c'è un altro aspetto che mi interessava molto e penso che sia un elemento con il quale un pubblico molto, molto vasto possa, insomma, riconoscersi. E c'è questa dinamica di chi vuole anticiparsi e scappare via dal posto in cui vive e chi invece è andato via. L'Italia è un paese che ha prodotto un'emigrazione importante, lo sappiamo. Per cui, ecco, questo senso, questo è un aspetto che mi piaceva molto, che anche il protagonista avesse poi delle cose con le quali, insomma, magari non possiamo proprio completamente aderire. Ecco, sono come delle, una sorta di incosciente, anche egoismo, ecco, chiamola così. Ma penso che il cinema però debba lavorare proprio in questi termini. Quello che mi interessa di più del cinema è proprio questa sua capacità di non, di creare dei personaggi tridimensionali e di non procedere per stereotipi o fare il buono o il cattivo. Quando c'è il bambino che, la nonna sta facendo le orecchiette sul tavoliere e gli dice, vuoi fare pure tu guardi, si fa così. Ecco, sono tutte cose, suoni, atmosfere, sensazioni che chiaramente ho vissuto anch'io da bambino. E magari c'è stata tanta gente che vive, che ne so, a Boston, a Chicago, magari si ricorderà. Peraltro in una delle scene, verso la fine del film, in cui c'è questo dialogo tra me e Rocco, ecco, quello è un posto dove io andavo proprio da bambino a, in cerca di funghi con mio padre. Per cui, abbiamo addirittura utilizzato dei posti che conosco proprio molto molto bene, che, insomma, dietro Castel del Monte c'è una parte della murgia. In fondo in fondo non è poi così cambiato. Prima erano, venivano, io mi ricordo da bambino, venivano delle ragazze dal Brindisino, da altre zone, a lavorare nei campi e a raccogliere fragole e pomodori nella zona dove sono nato. Ora venivano veramente sfruttati tutti, ora accade con gli extracomunitari, cioè se vogliamo è cambiato solo, diciamo, sono cambiati gli attori, ma quello che accade in fondo è più o meno il caporalato, ancora c'è giù, in una maniera diversa, totalmente diversa, mi sembrava anche questo un pochino, è l'esigenza proprio di alcune risposte che giù mancano, ancora mancano. Io ormai sono via da un sacco di tempo da lì, però effettivamente, cioè quando vado giù e ci vado, perché ho ancora mia madre giù, però mi accorgo che poi, diciamo, accade ancora. Bianca è un personaggio che io definirei moderno, proprio perché è una donna che rispecchia anche la donna di oggi, in quanto cerca riscatto, libertà, giustizia, e quindi è una donna che non vuole sottostare a determinate regole che allora vigevano, insomma, in una piccola comunità del Sud Italia. tutt'oggi esistono ancora parecchie discrepanze e quindi Bianca è moderna proprio perché rappresenta un po' il ponte tra ieri e oggi ed è importante soprattutto il concetto dell'identità della donna, perché Bianca vuole soprattutto imporre la propria identità, cioè io esisto in qualche modo e quindi si ribella insomma al suo padre, che è un padre padrone, al fratello violento e quindi credo che questo sia l'aspetto più affascinante del mio personaggio che era comunque molto caparbio e fragile allo stesso tempo. Quindi credo che il personaggio di Bianca comunque esprima un bel messaggio per tutte le spettatrici, gli spettatori, ma anche le spettatrici appunto donne, perché è un messaggio di coraggio e così di speranza, di non mollare mai, ecco, di lottare sempre per la propria identità. Sicuramente sono diversa da Bianca dal punto di vista delle origini perché lei è una donna del Sud, di un piccolo paesello, insomma, degli anni 50. Io sono una donna moderna che è nata in Brasile, ha viaggiato il mondo, lei non è mai uscita da quel piccolo contesto. E poi, insomma, è un personaggio coraggioso, ecco, è Caparbi. A volte vorrei avere lo stesso coraggio di Bianca. E come similitudine, cioè come è un po' questa qualità di essere comunque aperta alla vita. E in questo senso siamo simili anche le fragilità, l'umanità di Bianca, ecco. Riflettevo su quanto effettivamente fossero opposti questi personaggi, ma anche le famiglie in cui sono, no? Il personaggio di Bianca ha effettivamente, come dire, la figura del maschio, una figura prepotente, preponderante, violenta, all'interno della famiglia di Ciccio e quindi il personaggio di Lucia. Le donne invece sono coloro che portano avanti la famiglia, in qualche modo sono loro la forza. Quindi è vero la forza d'amore di questo femminile, di queste femmine, appunto c'è il personaggio di Lucia, il personaggio della mamma, il personaggio della sorella. E quanto questa, in qualche modo, la forza, vivevano tutti insieme, è assurdo pensare che vivessero tutti insieme in uno spazio così piccolo. E quindi ha la capacità di comprendere, in qualche modo, il maschio con tutte le sue, appunto, derive. Cioè non può abdicare alla sua sofferenza, naturalmente, però alla fine riesce quasi a comprendere che l'amore è anche capire che in qualche modo quella deriva lì è una deriva possibile. Poi naturalmente il femminile, la morte, riscatta questa situazione, in qualche modo. Sono due personaggi, è vero, opposti, che però vivono proprio due realtà. Cioè il personaggio di Gaia ha avuto bisogno di uscire violentemente da quella violenza, mentre in realtà il personaggio di Lucia, come delle altre femmine della famiglia, sono già a loro la forza. E quindi anche una, come dire, sì, c'è anche una comprensione maggiore nel lasciare andare quest'uomo al suo desiderio. Sì, sono diventato papà da un po' di tempo e quindi ho capito che l'amore per un figlio è un amore che non ti prevede. Cioè un amore che proprio non ti prevede. Nel senso che tu ami qualcuno, ma tu non ci sei. È al di là di te. Ecco, quindi non so come spiegarla meglio questa cosa. Forse per me è così. Basta, poi dopodiché nel nostro film questo padre che interpreto invece in questo film è un padre che ama suo figlio, ma proprio lo ama. Abbiamo qualche scena per capire questa cosa. C'è un rapporto speciale, un rapporto fatto di mani in faccia, di Alinguend, vieni qua. Che chiaramente è una cosa che io conosco, è una cosa... Cioè sono cresciuto così, anche mio padre, devo dire, non era estremamente affettuoso, però c'è questa cosa di toccarsi molto, di entrare in un rapporto con il dialetto che crea comunque un linguaggio speciale, anche che deve superare il pudore che c'è tra un padre e un figlio. Veramente fare un film, insomma, per me rimane sempre la cosa più bella che c'è e spero che mia figlia poi quando crescerà lo capirà anche lei che il cinema è meglio della vita. Ciccio è un buon padre però, Ciccio è veramente un buon padre. essere un buon padre, essere un cattivo padre è un'altra cosa, perché seguire il proprio sogno, cioè Lucia lo capisce, e Valentina è stata molto, molto, diciamo, ha centrato il punto, no? Il fatto di lasciare quest'uomo andare, se lo ami lo lasci andare verso il suo sogno, perché se ami una persona vuoi il meglio di quella persona. E Ciccio lo ama Rocchino, Lolo, anche l'affetto. Io mi ricordo, anche Riccardo ha citato suo padre, anche mio padre non era molto affettuoso, però anche quel piccolo gesto quando vediamo Ciccio che gli prende la faccina tra le mani, voi voglio disgraziare, voi bene a papà, sì, il bambino in quel momento là lo guarda con gli occhi, e Matteo, sto bambino bellissimo di gravina, lo guarda con gli occhi proprio del, guarda suo padre come se fosse un mito, un mito, ma non qualcuno da emulare nella vita, no, non è questo il punto, e lo ama, lì c'è proprio amore, in quel piccolo frame c'è amore, c'è un amore tra padre e figlio. Noi facciamo, c'è una sequenza di eventi, dove vengono coinvolti, coinvolte due famiglie, e si arriva a un certo punto, che poi non possiamo spoilerare, eccetera, però è proprio questa cascata di eventi, il racconto del film segue questi eventi, anche imprevedibili. Un'altra piccola cosa, i personaggi qua sono ingenui, Loè Bianca, innamorarsi dell'uomo sbagliato, Loè Ciccio, ma Loè anche Lucia, alla fine che permette, c'è una scena molto bella in chiesa, tra Lucia e Ciccio, e questo amore, questo amore di Ciccio per Bianca, è puro, è una cosa che veramente la si percepiva anche nelle famiglie di una volta. È stato molto interessante, devo dire che il metodo è un po', un metodo già sperimentato in altre esperienze, per esempio in Pericolo Nero con Stefano, una sorta di work in progress che continua per tutto il tempo, anche per tutto il tempo della ripresa, per esempio il finale del film, noi l'abbiamo scritto a dieci giorni prima di averlo girato, era completamente diverso nella versione con la quale abbiamo cominciato a girare il film, perché girando il film, poi a fine giornata ci parlavamo, vedevamo anche i posti, come dire, questo work in progress è una cosa, cioè chiaramente comporta anche dei rischi, ma è un lavoro che è durato tutto il tempo, da quando abbiamo deciso, insomma io ho deciso di produrlo, e quindi di farmi carico di questa responsabilità, mettiamola così, e fino a quando poi abbiamo cominciato a girare, ancora fino alla fine, anche al montaggio, siamo stati, il film è stato montato in Puglia, e in campagna in qualche modo, ecco questo metodo di lavoro, secondo me è molto, insomma ha dato i suoi frutti, perché siamo più tutti elastici, e in qualche modo le cose sono più organiche, soprattutto quando chiaramente le risorse che hai non sono enormi, quindi bisogna sopperire a questa mancanza di risorse, cercando di rimboccarsi le maniche, e cominciare a zappare un po' la terra. Per me la libertà è come il movimento, cioè è l'origine di ogni cosa, quindi se non c'è movimento non c'è vita, e se non c'è libertà non c'è vita, e quindi è appunto, come diceva Riccardo, è un ideale a cui sempre l'umanità tenderà, a realizzare nella propria esistenza. Una libertà è qualcosa che è molto complicato, è un lavoro costante e quotidiano, soprattutto per risvegliarsi a qual è la realtà che stiamo vivendo, perché spesso siamo addormentati, subiamo la realtà, tutti i punti di vista, la libertà di comprendere cosa sta succedendo lì fuori, di diventare, come diceva Riccardo, impopolari, radicali, per poter cambiare qualcosa, farsi portavoce di una realtà che uno percepisce. Secondo me siamo molto addormentati, in questo momento non siamo per niente liberi, stiamo vivendo un momento meno libero, forse da secoli, però risvegliarsi a questo, comprendere che siamo controllati, è difficile.